Ecco, torniamo insieme, siamo in diretta e ovviamente siamo anche nelle fasi di preparazione di un nuovo collegamento. Questa volta relativo al rapporto di cui vi abbiamo già fatto cenno nei giorni scorsi, il rapporto del centro Astalli per questo 2023. È stato presentato a Roma questo rapporto sulle attività del servizio dei gesuiti per i rifugiati alla presenza di diverse autorità del Presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi. Ma noi vogliamo tornare in collegamento con Donatella Parisi che già la settimana scorsa ci aveva appunto introdotto a questo tema. Donatella Parisi, responsabile comunicazione del centro Astalli. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Abbiamo avuto modo, come dicevamo soltanto, di ricordare questo appuntamento atteso perché si tratta di una delle realtà più importanti che operano nell'ambito dell'accoglienza, dei temi relativi all'immigrazione. Ma allora quali sono i temi trattati e soprattutto i punti fondamentali contenuti in questo rapporto 2023? Sì, abbiamo presentato qualche giorno fa il rapporto Astalli che racconta un anno di accompagnamento dei richiedenti asilo e rifugiati a Roma e nelle altre sette sedi territoriali in cui il centro Astalli opera. Quindi Trento, Vicenza, Padova, Bologna, Catania, Palermo e Napoli. In un anno abbiamo accolto 18.000 persone, 10.000 nella sede di Roma. Sono persone che scappano da guerre e persecuzioni, sono in prevalenza uomini, anche se possiamo registrare un aumento significativo di donne, sole o con bambini, di famiglie e anche di minori stranieri non accompagnati. Le principali nazionalità in questo momento sono il Mali, la Somalia, la Siria, la Nigeria. Persone quindi che scappano da guerre, che durano da anni, da gravi crisi umanitarie. E a loro si affiancano nel 2022 tutte le persone che sono state costrette a scappare dall'Ucraina. Questa è una fotografia per somme e linee delle persone che abbiamo accompagnato. Le abbiamo accompagnate offrendo loro servizi che vanno dalla bassa soglia, quindi da una mensa, da un servizio doccia, da una distribuzione vestiaria all'ambulatorio medico, all'ufficio legale, fino a tutti i servizi che offriamo per l'integrazione, l'inclusione sociale, quindi l'apprendimento della scuola dell'italiano, la ricerca lavoro, la formazione. Questo avviene in maniera abbastanza, diciamo, simmetrica in tutte le realtà. Seguiamo la mission del Centro Stalli, che sono i tre verbi che ci ha donato il nostro fondatore, che è padre Pedro Arrupe, accompagnare, servire e difendere i rifugiati. Ecco, cerchiamo di farlo ogni giorno nei servizi che riusciamo a garantire loro. Ecco, questo è un ambito molto specifico del contesto più generale dell'immigrazione, quello dei rifugiati, un tema che va sempre più sviluppato e conosciuto. Quando parliamo di immigrazione non possiamo generalizzare. Ecco, per quanto riguarda appunto il tema dei rifugiati, è emerso un altro importante argomento correlato nell'ambito della presentazione del rapporto, cioè quello della cosiddetta emergenza. E l'invito ad uscire da questa fase emergenziale, ecco, in che termini? Allora, quello che emerge dalla lettura dei dati del Centro Stalli è che un'accoglienza che sia dignitosa, che garantisca i diritti delle persone, che possa essere fatta in modo progettuale fin dal primo giorno è possibile. Noi questo lo sperimentiamo. Si parla di emergenza, riferita al tema delle migrazioni ormai da troppi anni, da oltre vent'anni. È chiaro che le migrazioni non sono un'emergenza, sono un fenomeno strutturale che va governato, va gestito, su cui bisogna avere una visione, il Paese deve avere una visione di quello che vuole essere. Cioè, la pluralità delle nostre comunità è un dato di fatto. Questa pluralità va governata attraverso processi di inclusione, attraverso politiche sociali e di integrazione che valorizzino la presenza migrante. Quindi, secondo noi, l'emergenza non sta tanto nel numero delle persone che arrivano, che negli ultimi anni più o meno si attesta su cifre abbastanza controllabili e prevedibili. L'emergenza sta nella mancata gestione, nella mancata visione di un Paese che di fatto è già multiculturale, ma su questa multiculturalità fa fatica ad investire e a farla diventare una risorsa. Lo abbiamo visto chiaramente nel 2022, analizzando quello che è accaduto ai profughi ucraini che sono dovuti scappare ed arrivare anche in Italia. In Italia in tre mesi ne sono arrivati 170 mila, a fronte dei 100 mila che ne sono arrivati in un anno via mare. I 170 mila in tre mesi non hanno rappresentato di fatto un'emergenza. È scattato un meccanismo di solidarietà da parte della società civile e si è potuto governare questo arrivo grazie alla protezione umanitaria che è stata concessa in tutti i paesi europei. Le persone che sono arrivate si sono sentite accolte fin dal primo giorno, hanno potuto avere cure mediche, hanno potuto investire sulla loro formazione e trovare lavoro. Tutto questo è stato possibile perché si è messa in moto una macchina organizzativa che ha funzionato. Se ha funzionato per gli ucraini, il centro a stalli sostiene che può funzionare anche per tutti gli altri, deve funzionare per tutti gli altri. Anche perché quando parliamo di vulnerabilità dei rifugiati i contesti che si aprono sono tantissimi e forse uno di quelli più delicati e che spesso passa sotto un secondo piano è quello relativo ai sopravvissuti, a violenze e torture nei paesi di origine e di transito come Libia e Balcani. Ecco un'altra realtà questa molto molto delicata che si aggiunge a quella della realtà ucraina. Sì, la ringrazio per questa domanda perché ci permette di affrontare un altro dato che emerge con forza dalla lettura dei dati del rapporto a stalli, quello della vulnerabilità delle persone che accogliamo e accompagniamo. Noi registriamo nei centri di accoglienza a Roma che oltre il 50% delle persone che vive in una struttura di accoglienza è una persona che porta con sé delle vulnerabilità fisiche o psicologiche. Sono vittime di tortura, vittime di violenza e di tratta. Ne portano i segni sul corpo e necessitano molto spesso di percorsi di riabilitazione fisica e psicologica o psichiatrica molto complessi. Queste torture non vengono subite solo nel paese d'origine ma vengono subite sempre più spesso anche nei paesi di transito. La Libia per esempio è un posto che i rifugiati ricordano con grandissimo dolore. Chiunque ci passa ha un'altissima possibilità di essere rinchiuso in centri di detenzione illegale e subire abusi e violenze. E anche nella rotta balcanica i rifugiati che abbiamo incontrato ci raccontano di subire violazioni gravi dei loro diritti umani. Questo ci dice due cose. Ci dice l'urgenza di aprire vie legali di ingresso sicure che eviterebbero il traffico di esseri umani. Lo diceva anche il Cardinal Zuppi alla presentazione del rapporto annuale. L'unico modo per fermare i via di arrivi irregolari dei migranti è creare delle vie regolari di ingresso. Questo è fondamentale e eviterebbe tanta sofferenza. E dall'altra parte è necessario che lo Stato italiano metta in campo energie e risorse specifiche perché queste vulnerabilità così importanti nella vita di una persona possono essere elaborate e risolte e si possa pensare anche per loro a dei percorsi che portino all'autonomia. Un ultimo punto. Ce ne sarebbero tanti da trattare ma ovviamente oggi vogliamo fare una sintesi quanto più esaustiva di quelli che sono gli argomenti principali nell'ambito della vostra attività. Dicevo un altro dei temi importanti è quello del divario digitale. Ecco, in che termini questo si sviluppa, si realizza nell'ambito dell'accoglienza dei rifugiati? Sì, questo è un tema che ci portiamo dietro dalla pandemia. È uno degli effetti sociali che la pandemia ha lasciato sulle categorie più fragili della popolazione tra cui appunto certamente i rifugiati. Durante la pandemia la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati ha avuto un'accelerazione significativa, era inevitabile. Non si è tenuto forse conto di chi non è in grado o non ha gli strumenti per poter accedere in tranquillità e appieno dei servizi digitali. I rifugiati rientrano certamente in questa popolazione che da questo punto di vista risulta più fragile perché spesso non hanno i cellulari, non hanno una buona e costante connessione di rete ma soprattutto non hanno le conoscenze tecnologiche e digitali per poter per esempio prenotare una visita medica da un computer, fare l'iscrizione di un figlio a scuola o fare un pagamento di un bollettino postale in questo modo. Quindi il Centro Astaglia ha aperto uno sportello proprio per facilitare il rapporto tra rifugiati e servizi pubblici e privati che usufruiscono di questi strumenti digitali. È fondamentale ridurre questo gap perché dalla riduzione di questo gap dipende molto dell'integrazione dei rifugiati. Un flash conclusivo riguarda un aspetto forse positivo che vogliamo leggere in questo modo cioè l'aumento costante di richiesta di volontariato in questo ambito. Cosa dimostra? Che effettivamente il tessuto sociale, la società italiana è pronta ad accogliere, a dare una mano in questo senso? Sì, è proprio così. Noi lo sperimentiamo ogni giorno. Sono 700 i volontari che in tutta Italia offrono il servizio ai rifugiati che accogliamo al Centro Astaglia. Sono moltissime le richieste che ogni giorno ci arrivano di poter dare una mano. C'è una società civile che forse viene poco raccontata ancora che invece è pronta ad accogliere, ad integrare, che vede nelle persone che arrivano un'occasione di crescita umana e culturale per l'intera società. Questo è certamente un segno inequivocabile di speranza. Anche le reazioni che c'è stata subito dopo il naufragio di Cutro, scusatemi, la società civile era pronta, voleva che si facesse qualcosa per fermare queste catombe in mare. Purtroppo ancora una volta la politica non è riuscita a dar voce a questa istanza che invece è forte e va secondata. Noi lo vediamo sia nel volontariato e con questo chiudo sia nelle scuole. Il Centro Stali fa moltissimi progetti nelle scuole. In un anno abbiamo incontrato 30.000 studenti. Tra gli studenti, tra la nuova generazione, la voglia di cambiamento, la voglia di incontro, la voglia di sentirsi parte di un mondo, di una comunità plurale è molto molto forte. A secondare questo, educarlo e veicolarlo può essere veramente la chiave per il nostro futuro. Grazie di cuore a Donatella Parisi per averci dato un'idea ben precisa, seppur sintetica, di quella che è la realtà dei rifugiati in Italia e dell'operatività, in tal senso, del Centro Stali. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi, buona giornata, grazie molte. Ci fermiamo ancora una volta e poi di nuovo i nostri momenti dedicati anche e soprattutto alla spiritualità e a Padre Pio.